Migliaia di dollari in cambio di propaganda a favore dell'Ucraina. La denuncia del giornalista canadese Kian Bext, che proprio sul suo profilo personale di Twitter ha diffuso una foto schermata, un screenshot come si dice in inglese, della conversazione privata con un giornalista ucraino, che secondo il giornalista canadese avrebbe a lui offerto migliaia di dollari in cambio di notizia a favore dell'esercito dell'Ucraina, appunto del presidente Zelensky. Come scrive proprio su Twitter, andiamo a vedere il messaggio originale, questo comunque è un sito ungherese russista, oro Sirek, però la fonte è questa qui, è proprio un profilo personale proprio del giornalista e quindi un messaggio diretto in una fonte russa. Sentite cosa scrive? Un giornalista ucraino si è offerto di pagarmi migliaia di dollari in nero per promuovere la propaganda pro-Ucraina. Secondo lui ha già altri giornalisti sul suo libro paga personale. Mi pagherebbe più di quanto guadagna l'Ucraino medio in un mese per un paio di tweet. Poi sotto andiamo a vedere che in questo filone di tweet, di messaggi su Twitter, proprio di Bext, lui si dice pronto a rifiutare ogni tipo di pressione, denaro, offerta di corruzione sostanzialmente per un'informazione viziata, ideologica, distorta, sia da tiranni come Putin, come Zelensky, sia da neoliberali e quindi padroni del mondo libero, mettiamolo in questo modo, Trudeau proprio nel suo paese, in Canada. Quindi non è esattamente un giornalista russista, è un giornalista che va anche contro Putin. E poi si chiede polemicamente da dove arriva questo denaro che questi giornalisti ucraini, in questo in particolare, un certo Vologimir, mi offrono questo denaro, questi migliaia di dollari. Qual è la fonte che vuole una propaganda a favore dell'Ucraina pro-Ucraina? Non ci deve sorprendere tutto questo però, è tutto abbastanza incredibile, nascosto, censurato dai medi italiani. Però Zelensky, il presidente ucraino, negli ultimi giorni, quindi il 20 ottobre, letteralmente ieri, ha, in un collegamento alla fiera del libro di Francoforte in Germania, una delle più importanti d'Europa, dell'Unione Europea, ha esortato tutti i cittadini europei a condividere, a spargere un tipo di informazione secondo cui ci sarebbero dei colpevoli, chi minaccia delle personalità politiche, dei popoli che minacciano l'esistenza stessa dell'Europa come civiltà, come valori, i famosi valori europei. Ospite di questa fiera sarà personalmente, fisicamente, la moglie Olena Zelenskaya. Zelensky, quindi il marito, il presidente, ha avvertito tutti in Europa sulla tentativo russo di manipolare la storia, qui ci mette anche sicuramente dentro l'Ungheria, implicitamente l'Ungheria di Orban. È un pericolo, è importante, dice Zelensky, condividere le giuste informazioni, dalla parte giusta della storia per citare qualcuno, su tutte quelle bestialità che l'esercito russo e gli russi tutti commettono ogni giorno da mesi in Ucraina. Perché? Perché la Russia deve essere conosciuta per tutto ciò che sta facendo, i crimini di guerra. Zelensky ha parlato più volte di Russia come stato terrorista, anche dell'Iran, ha citato anche l'Iran, che ha mosso delle truppe, secondo l'Unione Europea, l'Ucraina e gli Stati Uniti, i servizi occidentali in Crimea per aiutare l'addestramento, l'utilizzo dei droni suicidi iraniani, di fabbricazione iraniana ai russi, aiutare i russi per colpire, per esempio, Kiev, le centrali elettriche più importanti. E sappiamo che l'Ucraina ha tutti i problemi energetici che avrà, soprattutto in questo inverno, già in questi giorni. Dice Zelensky, ci sono sempre meno personalità culturali in Europa che stanno attivamente sul campo in Ucraina a testimoniare dal lato ucraino la guerra, ciò che succede lì, di fatto, sul campo, in testimoniare i crimini di guerra commessi, compiuti dai russi. Quando noi sappiamo che tutti i medi allineati occidentali, quasi tutti, qui in Ungheria, ci sono certi telegiornali conservatori, Filo Orban, come Irteve, E-Media, M1, pubblici e privati, che invece raccontano anche dal lato russo la guerra, con filmati delle televisioni russe pubbliche. E comunque ci sono personalità testimonial, influencer, tutti questi che stanno con la bandierina ucraina sui loro profili personali dei media sociali, per esempio, su Twitter. Per esempio anche la Liga Spagnola, il campionato di calcio spagnolo, ha in tutte le partite nella grafica la bandiera ucraina. Tutto siamo tranne che russisti, soprattutto nell'Europa occidentale. Andiamo avanti. Ci sono stati altri episodi di pressioni occidentali, americane, inglesi, ucraine, se vogliamo l'Ucraina controllata dagli interessi americani. L'America, la NATO, sta combattendo per ora indirettamente, neanche tanto, in Ucraina per difendere gli interessi americani. Burisma, il gas, i gas doti, ciò per cui si muove l'America. Ogni potenza, legittimamente o meno, nel mondo, per esempio in Siria, l'America, per esempio in Libia, il Regno Unito, la Francia e gli Stati Uniti, con Gheddafi undici anni fa, esatti. Gli ucraini hanno, come si può dire, ridotto a zero, rovinato la reputazione di un ristoratore di Parigi. Perché? Perché ha respinto due ospiti, due potenziali clienti ucraine al grido di viva Putin. Allora tutti gli ucraini, dopo il video realizzato da queste due donne ucraine, hanno cercato con circa 100.000 recensioni negative di distruggere su Google la reputazione di questo ristoratore. E poi il giorno dopo, con tutto il clamore mediatico, sono arrivati due uomini ucraini e, non dico a minacciare, ma a costringere, a fare pressioni sull'uomo, sul ristoratore, affinché chiedesse scusa al popolo ucraino, cosa che è stata fatta, e a denunciare Putin come una cacca, mettiamolo in questo modo, come un assassino. Possiamo vedere anche il video di Vicegrad24, profilo ucrainista polacco, dei due uomini ucraini che sono andati lì a fare pressioni. Se volete sostenere questo tipo di informazione, potete farlo attraverso i due metodi indicati in descrizione. Ringrazio per la sua prima donazione, Tiziano. Scrive anche un messaggio, bravo, alcune notizie le trovo solo da te. Continua così, dico io, finché PayPal e YouTube me lo permetteranno. E' stata incendiata, perché anche dall'altra parte ci sarebbe dell'odio, almeno potenzialmente, perché ad un'azione corrisponde una reazione in guerra. La Germania, milioni di immigrati, soprattutto negli anni 90, dalla Russia, e con il crollo dell'Unione Sovietica e la crisi economica, proprio nel paese ammiraglio sostanzialmente dell'Unione Europea, che un po' decide più di tutti la politica comunitaria, se di comunità possiamo parlare. E' stata incendiata una casa d'accoglienza, un centro d'accoglienza per profi ucraini sulla costa baltica del nord della Germania. Secondo la stampa tedesca, e quindi va preso con le pinze, nel giorno precedente all'incendio, ha piccato volontariamente, ci sarebbe stata anche una svastica dipinta sul portone, l'ingresso di questa struttura che accoglieva 14 profi ucraini. Secondo gli investigatori, quindi ci sarebbero delle motivazioni politiche dietro. Questa è la foto di ciò che rimane nel centro d'accoglienza. Siamo in questa località sulla costa baltica, appunto, del nord della Germania, il paese del cancelliere Scholz. Intanto, se chiamiamo America, allora bisogna parlare di ciò che ha detto Anthony Blinken, segretario di Stato di Biden l'altro giorno alla Stanford University. si parla di tecnologia in California, soprattutto di tecnologia. Un discorso confermato anche da fonti governative ufficiali americane, non solo a questo sito russista, secondo cui gli Stati Uniti, ecco Blinken cosa dice, che tra l'altro ha anche origini ebraiche e ungheresi, devono assolutamente sostenere, fare le regole del gioco della geopolitica mondiale, della politica mondiale, decidere le regole anche per gli altri, fare i propri interessi nel mondo, gli interessi americani nel mondo. Guardate caso, anche nell'Ucraina di Zelensky e prima di Poroshenko, post-2014, secondo i russi, colpo di Stato anti-russo, anti-Yanukovic. Secondo gli occidentali, invece, rivoluzioni popolari dal basso, con Euromaidan. Difende gli interessi americani, perché se non facciamo questo, dice Blinken, allora al posto degli Stati Uniti, ai tavoli che contano, si siederanno altre potenze come la Cida, che faranno proprio il nostro sviluppo di benessere e anche tecnologico, se alla Stanford stiamo parlando. John Bolton, che dal Texas, l'ex consigliere capo per la sicurezza anche di Trump, tra l'altro nella Casa Bianca, dice di stare attenti all'Ungheria di Orban, perché l'Ungheria ha già creato molti problemi da dentro alla NATO, all'alleanza nord-atlantica, agli interessi americani, cioè passati come occidentali to core. L'Unione Europea, che è la costola americana negli Stati Uniti, in Europa, nel vecchio continente, se la prende con l'Ungheria per l'ennesima volta per quanto riguarda delle pubblicità, i tabelloni, quelli delle pubblicità sulle strade, comunemente si trovano tranquillamente ovunque anche in Italia, dove il governo ungherese di Orban raffigura le sanzioni europee energetiche, soprattutto come letteralmente una bomba che piove dal cielo. L'Unione Europea, la Commissione Europea, dice no, non puoi fare così Ungheria, governo ungherese, perché le bombe le vogliamo fermare proprio con le sanzioni in Ucraina, buttare le bombe sono i russi e non è Bruxelles. A voi ogni giudizio. L'Ungheria, ricordiamolo, secondo anche il ministro degli esseri, si, Arto Peter, in una conferenza stampa l'altro giorno su Facebook, è l'unico Stato membro dell'Unione Europea che dice no, che ha detto no, si è rifiutata di addestrare i soldati ucraini sul suolo europeo, quindi a livello militare con le conoscenze militari europee. Al confine ucraino-ungherese è stato fermato un ragazzo di 26 anni, ucraino di Munkac, proprio quella cittadina col castello, con la statua dell'ungheresità, il turul, l'uccello con le ali enorme, tolto dagli ucraini perché è simbolo dell'ungheresità, quindi il rispetto delle minoranze linguistiche e etniche c'è tutto in Ucraina, lo Stato di diritto europeo, l'Ucraina difende tutta la civiltà occidentale, secondo l'Unione Europea, tutte balle, e comunque che cosa contrabandava? Voleva contrabandare dei mitragliatori, dei macete e delle munizioni, tutto questo censurato ai medi occidentali in Italia, soprattutto allineati mainstream. Che cosa? Non possiamo aspettarci null'altro dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti. Secondo la Commissione Europea von der Leyen, le sanzioni vengono violate dall'Italia se Putin riesce a regalare 20 bottiglie di vodka russa a Berlusconi. Questo è il livello della politica europea, delle priorità dell'Unione Europea, che in queste ore sta discutendo proprio sul tetto al prezzo del gas, sugli acquisti in comune, sul debito in comune nuovo, da fare di tutti i 27 Stati membri, così da togliere sovranità ai governi nazionali scelti direttamente dai popoli, come quello ungherese che evidentemente è scomodo per Strasburgo, Bruxelles, Berlino e Washington. Grazie per aver visto questo episodio al prossimo tra Italia e Modena e Orsaga.